Abbiamo scoperto che gli ottavi giocheremo con i quarti di Europa League, giocheremo con il Barcellona, ma c'è tempo, c'è tempo, adesso ci dobbiamo occupare, l'Emeritz FK, sesto turno Liverpool, tutto facile, l'anno scorso abbiamo beccato, stiamo proprio male ragazzi, c'è cipo per terra, che facciamo, cambiamo modulo? Cioè non so come giocare praticamente, ma non possiamo cambiare modulo, cioè questi non ce la fanno a giocare così, cioè giocheremo con un uomo in meno secondo me, vabbè io facciamo così, questo me lo porto, lo porto al posto di Arracciano, non lo facciamo giocare per niente, questo non c'è nessuno, chiaramente chi è l'unico che ha giocato come C e C, manco forse, c'è c'è un cdc che si potrebbe azzardare a... oddio, ma no, facciamo giocare Manu come C e C, speriamo un pochettino se è così, ma è brutta come partita così però, metto sempre il nostro caro amico Lukman che sta giocando bene, partita complicata, abbiamo una partita difficile con un giocatore che gioca fuori ruolo, incredibile ragazzi non riusciamo a giocarla, non riusciamo proprio a uscire, e dai dammelo, mamma mia, guarda questo è fallo, e però sono fallosi, attenzione brutta, mamma questo, brutta palla per questo, brutta palla, continuano a farci falli continui, ce la puoi fare? non è fuori gioco? no, mamma mia ragazzi, comunque Liverpool sta giocando con una pressione, una pressione impressionante, no, mamma mia, vai 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 no, va beh, questa non sta qua giù, è buonissima, è pazza porca p... niente da fare, presumo che sia anche abbastanza eh va buo, ah l'abbiamo presa, l'abbiamo presa, vai, è buonissima ce la puoi fare, ecco, va bene, bravo, bravissimo, ha fatto un grande fallo, occhio eh, donna santa ragazzi, mamma mia, mamma mia, eh no, Zicovic c'era una pulpia per travalare, eh va bene, va bene, ok, tranquillamente nostra, Zicovic, io penso che puoi andare anche in porta, Zicovic eh, anche in porta puoi andare ottima, vabbè, che pecchiato finisce 2 a 0, stavamo rischiando poi di fare il terzo gol, va bene così, mamma mia, eh, risultato finale, Brinton ha avuto il WS, che culo hanno avuto praticamente, quindi, basta, ai riguri l'Aston Villa, passa al Brinton, passiamo noi e passa anche i Leeds, quindi, è fattibile, se non becchiamo l'Aston Villa potrebbe essere anche abbastanza fattibile, ma lo sappiamo carissimo, chi becchierivano, abbiamo, ah tutto, c'è anche il 30 anni, abbiamo anche recuperato parecchio, ci abbiamo il West Ham e poi subito due partite di campionato, quindi, allora tenete presente una cosa che ci abbiamo, una partita in meno, come se si, c'erano tre punti, quindi, questa, diciamo, che se vinciamo, incominciamo un po' a mettere i puntini sulle I, così almeno il campionato sta un po' più tranquillo, non stiamo giocando, secondo me, bene, eh, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa, occhio, scendi, cazzo, uh, mamma mia, abbiamo rischiato qua, eh, c'è stato all'improvviso, ottima palla, bello, molto bello, il tiro brutto, ma molto bella l'azione, quest'anno dovrebbe attacchiare, ma non è che lo vedo tanto, non lo vedo tanto attacchiare, eh, bello avuto, bella scivata avuto, bello, l'hai presa, l'hai presa, faccelo fare un minuto di recupero, però andavamo in porta, 1 a 0, ma attenzione, la storia ci ha insegnato che noi pure due gol rischiamo, quindi, ok, grande che nostra, che fa, perché succedono tutte queste cose strane, io non lo so, attenzione che questo qua basta un niente e si buttano per terra, eh, che cazzo, eh, ero entrato, mamma mia, aspetta, aspetta, dammi il giocatore, questo manco lo prende, però là, eh, se tira, ma buona, forza, aia, aia, qua abbiamo tanto rischiato, eh, facciamo dei cambi, 1 a 0 e poco, 1 a 0 e poco, e vai Conti, vaga, eh, se ne è andato proprio, se ne è proprio andato, cioè, ce l'ha proprio freddato proprio, guarda lì, poco, poco alla fine, un'altra azione, un'altra possibilità, no, no, la santa che ha preso, pensa l'azione e rivia, vai, 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 che stavi andando, vai, che stavi andando, oh, questa spazia, palla messa fuori dal difensore, si riparte con una rimessa laterale, ultra offensiva, va, va, vai, bello, e di cattiveria, eh, andiamo anche di cattiveria, ma non rigore, però, non rigore, non rigore, non rigore, va bene, va bene, va bene, da solo, da solo, è giusto premio, ma, cioè, io non lo so, in mezzo all'area, da solo, in mezzo all'area, da solo, da solo, cioè, io non lo so, ma, chiaro Dio, sta partita, proprio, tutta colpa sua, eh, cioè, capisco che non ha fatto grandi errori, però, c'è, quando sembrava che ormai la partita fosse finita, si, ah, no, eccole, ma, tanto, figuriamoci se riusciamo a prendere il nostro vantaggio, non lo prendevamo mai, il nostro vantaggio, fa niente, fa niente, va bene così, eh, Aston Villa ha risultato finale 2-0 a Manchester United, quindi è in forma, non saprei, eh, siamo sempre vini, abbiamo quattro punti di vantaggio, comunque, quindi, non è che so pochi, eh, poi ce n'abbiamo subito un'altra vicino, quindi, Premier League, tutte partite vicino, quindi devo cercare di far riposare un po' anche qualcuno, perché se noi non ce la facciamo, eh, vabbè, infatti, tipo, Wost sta per terra, anche Kim ci sta per terra, va bene, va bene, va bene, Liverpool, le ha presi i vantaggi, però, a difesa siamo completamente, va bene, secondo me non era, ma eccessivamente ci oltre sempre le palle, questa è il rigore, va bene, la munizione secondo me sarebbe stata eccessiva e c'è il gol in favori del pronostico fin qui hanno dimostrato grande carattere grande determinazione male 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 ma che ha fatto bella bella bellissima bellissima mamma tutto di prima bellissima bravo Miller tutto di prima Maximo esce troppo esce troppo Maximo esce troppo mamma quanto ha rischiato mamma quanto abbiamo rischiato giocatore strano chiesa un giocatore che alterna grandi partite a partire di merda si sblocca dunque il match 1 a 0 al minuto 51 l'hai presa Zicovich la presa Wacky se fall vabbè dai ci ha chiamato un fallo inesistente vai Zicovich prosegue la sua avanzata aaaah questa è buona vai Lucman vabbè vabbè guarda lì guarda lì ok le prise le prise mia grande bravissima cambia gioco e andiamocene dai ottima vai chiesa vai chiesa non è fuori gioco non è fuori gioco come gliel'ha data a sta palla io pensavo fosse fuori gioco andiamocene dai che fai finisce e vinciamo era importante portare anche questo risultato a cazza perché significa che fondamentalmente a questo punto dovremmo avere un po' di punti di vantaggio classifica abbiamo esattamente soltanto 4 punti di vantaggio visto che il Manchester City ha vinto un po' di punti sui schiats with a broken spain I'm past with